Il 18 febbraio è stata la giornata mondiale del risparmio energetico e oggi vediamo qualche consiglio. Prima di tutto controllate il vostro frigorifero, siete davvero sicuri di mettere i cibi, le verdure e le bevande nel giusto modo? Perché potreste risparmiare qualcosa, anche controllare magari le guarnizioni del vostro frigorifero. Per lavatrici e asciugatrici avete mai controllato a che temperatura fate il lavaggio? Più le temperature sono basse, meno sarà il consumo energetico. E lo scaldabagno lo avete? Se sì, perché non metterci una presa smart? Sicuramente controllerete meglio consumi, accensione e spegnimento. E se in casa ancora avete delle vecchie lampadine, passate al LED, magari dimmerabile, in modo da poter controllare la luminosità della stanza e consumare meno di giorno o di notte. Questi e altri consigli qua in descrizione nel video completo. Ciao!